È in una strada. Chiude il bagagliaio di una macchina. Vikram arriva. Eddie, stai bene? Sembri preoccupato. Ho noleggiato questa macchina, ma non si accende. Ah, ho capito. Ti posso aiutare? No, Vikram, non ti preoccupare. Ma io so perché la macchina non si accende. Vikram, io conosco bene le macchine. Eddie, la macchina è già accesa. No, non è accesa. Non sento il motore. Eddie, questa è una macchina elettrica. Non fa rumore e non ha bisogno di benzina. Ma ho messo la benzina nella macchina dieci minuti fa. Cosa? Dove? Qui. Eddie? No! Quello è il bagagliaio. Ho messo benzina, motore. Sembri. Mo stereo può arrivare il bagagliaio. Mia versione dippa potpre engaged in un'unità hop. Eh, non paure c'è. Committee essi ferito taşronomi in un piano.